Grazie Presidente. Il progetto GE è un progetto di riduzione dello spreco alimentare, un progetto per trattare lo spreco alimentare e perciò la frazione umida nei mercati, un progetto che è stato elaborato e finanziato dal Dipartimento Ambiente e dall'Assessorato all'Ambiente, perciò è un progetto che comunque noi sposiamo ed abbiamo abbracciato proprio anche come sperimentazione su un sistema di gestione dello spreco alimentare. Noi oggi possiamo valutare o comunque cercare di fare un tentativo di recupero di quei fondi e eventualmente ci muoveremo affinché il progetto presentato tempo fa venga poi riportato avanti per la sperimentazione e per garantire anche il lavoro a quelle persone che comunque hanno collaborato nei mesi trascorsi con l'amministrazione. Chiaro che non possiamo però prendere in via definitiva, non possiamo dare delle promesse definitive proprio perché dobbiamo fare comunque dei tentativi, insomma sia di recupero dei fondi che è comunque la parte più importante, perciò in variazione bisogna capire se quella somma è possibile comunque intercettarla e reinserirla nel capitolo di bilancio proprio per ultimare il percorso che avevamo iniziato mesi fa. Ecco questo è un impegno che comunque possiamo prendere, cioè di valutare chiaramente per non come dire oggi dire che comunque i fondi li abbiamo individuati e li abbiamo stanziati, però è un percorso che comunque porteremo avanti. Perciò Presidente noi oggi ci dobbiamo astenere perché comunque dobbiamo fare delle valutazioni tecniche con gli assessorati competenti e anche chiaramente con gli assessorati che si occupano. Chiedo cortesemente al pubblico di fare silenzio.